salve a tutti amici artisti con questo video unboxeremo il nuovo pacco che è arrivato mi è stato aperto per controllare il contenuto e poi ho chiesto di richiuderlo per il video di fare un unboxing volevo condividere con voi in particolare che questa piccola figlia di cuttana mi ha abbandonato due figlie di cuttana in realtà è soltanto il display che è diventato bianco quindi diventa quasi impossibile poter riprendere e fare i vlog ciò che si registra automaticamente ho deciso di vendere una nuova e la spesa ecco adesso procederemo con la tutta del pacco e riguardando il contenuto eccoci qui ora aduniamo il pacco ecco l'ho fatto siamo fuori vediamo un po' allora per primo abbiamo la copro finalmente copro nuova microfono e micro sd sd e micro sd ok quindi poi se faccio e direi di aprirlo allora partiamo dal c'è non dal meno importante però partiamo dal microfono in modo che abbandoniamo questo stronzo vecchio microfono non andava più ecco l'ho qua finalmente un microfono serio con tanto di istruzioni a lui l'onore ok quindi cosa accendere e si collegava al computer poi lo installeremo appena cosa mai dopo i facciamo un'altra parte di video dove registrava con questo installazione poi questa sarà forse pure qua no ma bu troppo troppo i ghiacchi eccolo qui ok quindi questo è il tasto accendere e spegnere si è questo si collega al computer poi questi qua servono per questi qua servono per le cuffie e per i micro si per le cuffie se non mi piace poi questo è il piedistallo come diremo in napoletano tre pepe guardate che differenza questo è il microfono serio che va messo vabbè dopo lo deve essere così guardate che differenza questo è quello vecchio e questo è quello nuovo mamma mia che bello ok quindi questo già l'abbiamo visto ok via di metterlo non da parte però facciamo così prendiamoli questo così dopo lo installiamo mettiamo qua ok e adesso possiamo partire con il mi sta qua dal micro sd dove lo sistemiamo nella gopro partiamo col pezzo grosso direi di fare una cosa prova ad aprirlo e di così senza colta ieri no che se no almeno dovevo però incidere l'olastica ok è andato è andato non cazzo ok Ok, per la parma. Adesso attenta che questo basta. No, no, non è andata carinì. Ah, perché ho visto altri unboxing e... Che poi c'è una brutta film. No, no, però... Ah, ok. C'è anche qua. C'è un minimo proprio di somiglianza con l'altra curo, però è poco. Guardate che differenza. In effetti un pochino insomigliano, però è più altamente di risoluzione. Qualità, poi è di marca. Cioè, non che quella non la sia, però... Vedete qua. È imballato benissimo. Meglio così. Sì, sì. Ecco qua. Qua. Ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta-ta-ta! Eccola poi, finalmente. Mamma mia. Ah, c'ha... Di vari pezzi... Per andare male, secondo me si collegano a questo qua qua su. Obbretto di istruzioni. Obbretto di istruzioni. Questo è... Vari pezzi... Sì. Il vomito per il montaggio, per poterlo usare in varie occasioni, in vari modi. Questo... Ah, questa è la fascetta? Sì. Questo adesivo pure, per poterlo attaccare, normalmente... Per registrare. Questi sono... Questi sono... Questi sono... No, questa qua... Penso che si stacca, come lo sia. Eccola qua. Mamma. No. Ahahahah. Eccola. Caccia. Caccia. Ma... Ma... E' pure abbastanza pesante. Non si direbbe. Guarda questo è leggerissimo. Stiamo da confronto. Eh... Caccia... E' un bambino questo. Questo è un signor gubro. 4k entrambe, ovviamente. Eh beh... Oddio... 4k... Vero... Comunque questa ha fatto il suo dovere, da. Per 5-6 mesi... Quasi un anno. Di più, quasi un anno. Guardate lo schermo come è diverso. Direi una cosa. Pulire un attimo la... La scrivania. E vi facciamo vedere tutto quello che ci è arrivato. Ricapitolando, abbiamo preso... Un microfono della Trust... Allround. Con tanto i tre piedi. E con i tre piedi. Eccolo qua. L'abbiamo messo anche prima. Poi... Una Nilox... Evo 4k plus. E una micro SD... Della Lexar. Ed è... Ora le spellicoliamo. Le spellicoliamo. Spellicoliamo anche questa. Questa no. Questa no. Non c'è? Ok. Adesso l'ho questa qua. Adesso andiamo col pezzo forte. Ah, eccolo qua. Lo so qua però possiamo rimanerlo. Perché... Capito? Comunque per protezione. Meglio dici. Ok. Comunque costa da duecento o duecento. Lasciamo stare. Ok. 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 Quindi ci ritorniamo. Ora il mio piccolo assistant procederà con l'inserimento dello spinotto e del montaggio del microfono. Ok. Proviamo. Allora. È stato incerito un jack. Ok. No. Non funziona. Ok. Bene. Figure di merda numero uno. Allora vediamo un attimo. Questo è il microfono. Ok? Sì. Un microfono. Allora dire di fare una cosa. Vediamo come si usciamo il fatidico dipretto delle istruzioni. Allora. Ok. Two thousand years later. Finalmente siamo riusciti ad installare il microfono dove esserci beccati gli svariati spaventi e vi fatto botte con il computer perché non è stato facile come sembrava. Sì. Parecchio. Comunque vorrei farvi vedere una cosa. Guardate la differenza tra il nuovo scatolo e il microfono. Certo che il 4K è sempre dorato. Guardate che differenza. che poi c'è sempre a vedere dentro. Signori e signori. Spero che questo video unboxing vi sia piaciuto. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Al prossimo video.